Si ricordo bene la partita di andata, ho fatto due gol, prima di questa partita ho cambiato tutto. E come ha cambiato? No, perché prima di questa partita pensavo andare in gennaio e vado via, però ho fatto due gol e rimasto qua, ho fatto qualcosa di buono, sono contento, ho fatto così. Ora che siete un po' in calo, i tifosi vi chiedono un pronto riscatto proprio contro la Roma? Contro la Roma. Quali punti contro la Roma? Sì, noi giochiamo quello che sappiamo noi, il bersaglio non c'entra, noi giochiamo quello che sappiamo noi, se fa bene possiamo prendere due punti, sicuramente. Come giudichi le ultime partite del canale? Domenico. Sì, le ultime due, per esempio le ultime due sconfitte in casa contro il Milan e l'azione di Vito. Sì, le ultime due partite sono difficili perché loro pensano a Champions, Scudetto, loro non vogliono perdere le partite. Noi abbiamo fatto buona partite, non è mollato, però loro hanno fatto più bene e abbiamo preso delle partite. Senti, ma com'è il tuo cantonato fino a... c'era stato un momento che si è molto muovo, poi ti senti di fermare di nuovo? Senti, ma com'è il tuo cantonato fino a lungo, perché non ho fatto il tiro con questa squadra, perché è andato ora in piedi. Piano piano, ho capito che quello che fa mister, quello che fa compagna, piano piano stavo bene, poi sto sempre bene. Ecco, abbiamo visto anche, si è detto, il Catani magari non aveva avuto la giusta grinta sempre nelle ultime partite, però per quanto ti riguarda abbiamo visto anche metterci tanta tanta grinta e anche quando c'era da andare a batti e beccare, magari contro due votori più importanti non ti si è tirato indietro. Per noi abbiamo fatto quello che sappiamo noi, poi il risultato ha perso, è solo quello. Tu all'inizio della stagione ti hai previstato di raggiungere un certo numero di gol, se sì, l'hai raggiunto o ancora comunque sei lontano dal tuo obiettivo? Sì, io posso fare di più, io devo migliorare di più, io penso sempre di quello, ma adesso c'era mancata le partite, voglio giocare tritutto le partite, poi se è possibile voglio fare tanti gol. In queste tre partite? Sì. Quanti? Perché posso fare? Diciamo una partita? Speriamo, speriamo, sì. E un sogno invece per la prossima stagione? Voglio continuare così. Io sto bene, la squadra sta bene, voglio continuare così. A Catania? Sì. Non pensi più di andare in Italia? No, io voglio rimanere qua. Mori, hai visto Shaq che è stato convocato nella nazionale del Denti, tu lo conosci? Sin nei tempi della miniatura sei contento per lui? Sono contentissimo, perché giocavo con lei tre anni fa, con Primavera, sono contentissimo. Tu pensi che lui nel futuro potrebbe essere tuo compagno, un titolare della prima squadra? Io penso che sì, perché lui è bravissimo, tante qualità. Sono contento che è così. Magari un miglior anno prossimo? Speriamo, dipende di lui.